... ... Giovanni Ma io mi fai fare se viaggi e il santo non mi viene la sua stessa e la sera ti dava a te giusto? Quello sono 50 euro, più 80 euro se lui mi lancia tutti gli anni succede se sta cosa Adora ci amo, all'unice ci amo eh? come sei tu? ma come ho finito? come ho finito qui? i soldi mi paghiassi? eh... dove vuoi? di tutto Giovanni, di tutto Giovanni ma oggi pare che è sabato, giuro ma perché tu mi paghiassi i soldi? non direi se passano ieri si ma ora è un'altra settimana Giovanni domani è sabato domani è sabato un'altra volta ah tu dici 150 euro sisi si si ma ma ilney se ci vanno eh... ma come si thé si po.... ma che vuoi ? Non mi ricordi da vendere 50 euro le origini di 3 debo ricevolo. Ma un'az Masono di ricevolo e una cosa c***o... non mangi tu. non mangi du ne ho i soldi. non mangi tu. non mangi tu. non mangi. era così ho l'azio. era così. non ho 50 euro. da me sei ricordato. lies da tutta forse scritta all'aila. dove vuoi? dove vuoi? chiama il f***o. perché sono dove vuoi mandare i soldi? città dov'è Giovanni che c'è? e c'è già? vieni ma non è c'è? ora ora mi stavo andando a me figlio e mi dice andando a preoccuparci l'importante è che dentro il giorno ti chiudo la cosa che sono stato dicendo? ma chiedi io? vabbè che tardi vieni? vabbè la stancita ma non c'è bisogno per tardi ti dai i soldi tranquillamente ciao ciao ciao